Sono in un piccolo paesino dell'East Sussex, che si chiama Heathfield, a una ventina di chilometri dalla costa da Eastbourne o dalla più famosa Brighton. Nella High Street di questo paese c'è un deli shop italiano che si chiama Cuculo Deli. Adesso entriamo e vi faccio vedere questi prodotti che sono esposti oggi nei banchi del Cuculo Deli perché fanno parte di un progetto che vede le regioni del sud Italia come la Puglia, l'Abruzzo e la Campania che offrono i prodotti che vogliono introdurre i loro prodotti nel mercato inglese. La Cuculo Deli si è prestata ad inserire i suoi prodotti sugli scaffali del negozio e noi siamo qua oggi per vedere che che apprezzamento hanno questi prodotti verso la clientela di questo piccolo paese, ripeto che è nell'East Sussex. Queste sono le specialità che sono interessate oggi. Siccome non c'è molto da assaggiare così sul momento, ci sono delle passate di pomodoro, dei sughi pronti, dei legumi, delle paste speciali. C'è una pasta fatta con il farro e altri grani pregiati. e quindi andremo a preparare alcuni di questi piatti per fare assaggiare questi piatti alle persone che verranno a trovarci. più tardi faremo un'altra registrazione. Intanto non perdetevi la prossima trasmissione perché poi vi mostrerò la cucina perché vi metterò un po' a cucinare e preparare qualcosa per l'assaggio.